eeeh cari iscritti eccoci in questo nuovo video di minecraft snapshot benvenuti nello snapshot 23w45a il primo snapshot a includere le ultime cose che mancavano annunciate intendo al minecraft live ovvero le trial chambers annunciate non l'ho detto per minecraft 1.21 mancano poi vi ricordo tante altre cose che presenteranno con gli snapshot nei mesi a venire ma per ora teniamoci buoni le trial chambers il crafter e l'armadillo che ancora deve arrivare in questo video quindi vedremo sia le trial chambers sia altre novità che arriveranno non direttamente con la 1.21 ma prima con la 1.20.3 si tratta di modifiche molto piccole perché vi ricordo questo snapshot è in realtà uno snapshot per minecraft 1.20.3 e le trial chambers della 1.21 sono al suo interno come feature sperimentali quindi possiamo giocarci ma non arriveranno nell'immediato prima di cominciare come sempre vi ricordo di entrare all'interno del mio server discord il link lo trovate qui sotto in descrizione di dare un'occhiata al mio nuovo server minecraft frattura mc il link è sempre in descrizione anche per lui e se vi interessano le novità della 1.21 magari di iscrivervi al canale attivare la campanellina e mettere mi piace a questo video purtroppo ci sono delle cose da youtuber che vanno fatte ogni tanto non non sempre se no diventa fastidioso detto questo direi di vedere subito le novità della 1.20.3 che sono veramente piccine picciò e così poi passiamo alle vere novità interessanti le trial chambers o comunque potete passare avanti con i capitoli del video qui sotto se volete e tralasciando il fatto che la terza volta che rifaccio questo video meglio non parlarne la prima novità riguarda lo spawner lo spawner che adesso vediamo ha le facce nascoste visibili questa infatti potrebbe essere una cosa che direte beh ma non era prima anche così con quale italiano l'ho detto no beh perché prima quello che succedeva era vediamo se riesco a prendere un blocco tipo le foglie i blocchi trasparenti ad esempio le foglie in realtà mostrano soltanto le facce direttamente visibili quindi questa a sinistra a destra e questa sopra quelle dietro se vedete non sono visibili non esistono a meno che non andiamo dietro e allora diventa visibile mentre lo spawner da questa versione diventa visibile anche per quanto riguarda le facce nascoste quindi vediamo questa faccia e le altre facce dietro di lui perché questa cosa penso che sia dovuto intanto alla presenza di questi spawner nelle nuove trial chamber o meglio non proprio questi altri spawner dopo li vediamo ma più in generale il fatto che beh non ha senso vedere soltanto alcune facce di un blocco che sostanzialmente si vede veramente poco come questo le foglie è un conto le vediamo praticamente su ogni albero in minecraft è al 50 per cento alberi lo spawner beh non lo vediamo sugli alberi quindi ci sta che ci sia un livello di dettaglio maggiore per questo blocco dopodiché sono state cambiate sono state aggiornate le versioni del datapack e del resource pack il datapack passa alla versione 24 in quanto sono stati aggiunti il mob sperimentale del bridge il trial spawner e sono state cambiate alcune variabili massime per alcuni gigs o insomma continuano a lavorare su rendere le strutture più grandi e migliori probabilmente anche a causa delle trial chambers che vedremo tra poco d'altra parte il resource pack è stato aggiornato alla versione 21 siccome sono stati aggiunti tutti gli asset per il bridge quindi la texture la texture del proiettile che lancia e altre cosettine detto questo le novità della 1.20.3 sono terminate e direi che possiamo passare allora alle cose interessanti o se siete arrivati qua dei capitoli saltando la parte prima bravi avete fatto bene adesso andiamo a vedere una trial chamber nel sottosuolo eccola qua la vediamo generata chiaramente in questo modo è una struttura che troviamo a metà tra la deep slate e la parte di pietra in realtà questa si è generata quasi esclusivamente nella parte di deep slate ma ho visto alcune estendersi anche più sopra e partiamo ad esempio da qua da questa struttura qua da questa stanza qui questa signori è una trial chamber probabilmente la troveremo normalmente girando per le caverne e vedendo queste pareti di blocchi di tufo queste qua potremmo poi entrare o decidere di trovare un ingresso ma finora non ho trovato ingressi veri e propri quindi entreremo sfondando una parete come facciamo per la stronghold ci sono due tipi di stanze abbiamo alle stanze delle sfide come questa dove abbiamo i trial spawner e delle casse di bottino oppure delle stanze un pochino più tranquille delle stanze di passaggio tipo questa dove non troviamo degli spawner ma troviamo semplicemente delle casse oppure dei vasi dei barili detti di rifornimento tipo questo qui no questo è quello di prima tipo questa qua ecco questa è una zona quasi di riposo veramente con un barile con delle cose davvero molto molto blande vediamo però intanto la struttura come è composta vediamo per terra dei blocchi di copper ossidato e incerati quindi questi non potrebbero in realtà ossidarsi di più ma sappiamo che già sono a livello massimo possiamo togliere la cera e deossidarli se vogliamo ma siamo delle persone orribili a mettere questo unico blocco qui quindi rimettiamo questo sulle pareti troviamo dei blocchi di copper ossidati anche questi quindi non potranno ossidarsi dei blocchi di tufo dei brick e dei brick cisellati e sul soffitto dei blocchi di tuffo levigato troviamo sulle pareti anche i copper bulb questi blocchi che come sapete dallo scorso video se non lo sapete ve lo lascio qui in alto nelle schede sono dei blocchi che fanno più o meno luce a seconda del loro livello di ossidazione quindi questo che non è per niente ossidato fa la luce massima questo che è ossidato quasi del tutto non fa praticamente luce possiamo chiaramente deossidarli con l'ascia in questo modo per farli tornare al livello originale e alcuni dovrebbero addirittura essere ecco qua walksad quindi in cerati ad esempio questo non lo è questo sì quindi alcuni saranno sempre accesi sempre luminosi mentre altri si ossideranno con il tempo la struttura come ho già detto anche altre volte è generata proceduralmente questo vuol dire che la posizione degli spawner delle stanze ma anche il loot che troviamo è sempre casuale ogni struttura diversa che visitiamo ed è considerata una struttura essere mid game quindi più o meno ferro al diamante con cose ancora in ferro ma già in diamante non so se dovremmo aver sconfitto l'ender dragon per il mid game o forse lì già diventa late game comunque è chiaro che la struttura può essere affrontata in qualsiasi punto del gioco ma è consigliabile farlo a mid game vi dicevo poi troviamo due tipi di stanze le stanze di rifornimento tipo questa con dei barili oppure tipo questa che è il corridoio con non solo dei barili ma anche delle casse sparse in giro oppure dei vasi da qualche parte sono spariti i vasi va bene tipo qua abbiamo delle casse quindi anche questa è una zona di rifornimento lo vediamo anche dal loot non troppo interessante anche qui sopra questa forse è una cassa del loot perché beh perché troviamo una mela d'oro incantata oppure qui sopra nei barili troviamo insomma roba sempre di basso livello qua troviamo un vaso che vi ricordo può essere rotto per prendere la roba al suo interno e troviamo roba anche discreta ferro smeraldi qua dei blocchi dentro il barile qua dentro dell'avetista ma troviamo anche dei diamanti volendo dei lapis alcune armi o strumenti sono anche interessanti tipo smite 4 su un'ascia niente male qua soltanto un cartello e vi dicevo però ci sono anche altre casse ovvero le casse del tesoro casse che sono decisamente migliori per quanto riguarda il loot in questo caso no troviamo soltanto degli scudi però tipo come avete visto prima nella cassa di prima abbiamo trovato una mela d'oro degli strumenti niente male ad esempio qua troviamo ecco questa è una cassa del tesoro e proprio in queste casse del tesoro oltre a trovare smeraldi o armi incantate troviamo anche dei libri incantati e alcuni niente male ad esempio qua silk touch ho trovato mending ho trovato efficienza 5 per protection 2 su questa chest plate quick charge altri smeraldi insomma le case del tesoro sono molto interessanti secondo me da lootare comunque sia il loot presente in queste casse non è definitivo verrà sicuramente cambiato negli snapshot a venire e cambierà molto da qua al rilascio ufficiale della 1.21 continuando a parlare ancora di questa struttura vediamo qui sopra se non sbaglio che c'era uno spawner questo spawner non è uno spawner normale cioè questo vedete che c'è una sorta di differenza proprio piccola piccola non si nota ma è uno spawner delle trial un trial spawner e ha delle particolarità che tra poco vedremo ma prima di andare a vedere lo spawner in sé parliamo di come funziona il piazzamento di questi spawner in alcune stanze ce ne sarà uno in altre non ci sarà per niente in altre in particolare quelle delle sfide vere e proprie ne troveremo molti di più riesco a trovare una stanza delle sfide tipo questa qui dentro già ne troviamo uno due e tre e tra l'altro notiamo anche delle piccole differenze ad esempio questo ha dei blocchi d'ossa quest'altro anche quest'altro ha dei blocchi di tuffo cisellato cosa vorranno mai dire tutti questi blocchi diversi vuol dire che questi spawner spawneranno dei mob diversi infatti gli spawner che sono piazzati dentro questa struttura sono divisi in tre categorie ci sono gli spawner per mob melì zombie slime e ask gli spawner per mob melì piccoli quindi ragni delle caverne ragni normali baby zombie e silverfish e spawner per mob ranged quindi a distanza scheletri scheletri con frecce avvelenate davvero tanta roba e gli stray quella variante di scheletri che lancia frecce con slowness e questo funziona in modo che alla generazione di una struttura di una trial chamber per quella struttura venga preso soltanto un tipo di mob per ogni categoria e tutti gli spawner di quella categoria in quella struttura siano di quel tipo quindi in questo caso qua abbiamo uno spawner ranged di scheletri perché abbiamo il blocco d'ossa e quindi tutti gli spawner che dovranno spawnare mob a distanza saranno per l'appunto di scheletri tutti quelli di tipo melì dovrebbero essere in questo caso ask perché abbiamo della sandstone e chissà allora tutti quelli di tipo small melì dobbiamo trovare innanzitutto uno spawner ad esempio qua abbiamo ancora ossa ossa anche di qua quindi dubito che o non c'è lo spawner di questo tipo o semplicemente guardate quanti di ossa 1 2 3 4 5 non trovo gli altri spawner quindi probabilmente in questa struttura non si sono generati quel tipo di spawner può darsi può anche essere può anche essere e in realtà però vi dicevo c'è un quarto tipo di spawner che si genera sempre in ogni struttura ed è questo qua questo spawner con questi blocchi di duffo cisellato questo spawner se provate a indovinare da questa spirale o da queste nuvolette qua cosa può spawnare spawnerà proprio lui il breeze nuovo mob presente proprio in queste strutture e che vedremo più avanti cavalchiamo l'onda e continuiamo allora a parlare di questi trial spawner degli spawner molto particolari perché intanto non avranno bisogno della presenza continua del giocatore nei pressi dello spawner per funzionare ma spawneranno secondo un altro criterio intanto il mob spawnato non sarà affetto in alcun modo dal livello di luce quindi qua ci può essere anche tutta la luce che volete lui spawnerà il mob il mob sarà persistente quindi non disponerà se ci allontaneremo abbastanza e lo spawner terrà spawnati un certo numero di mob contemporaneamente si intende fin tanto che sarà attivo cosa vuol dire questo vuol dire che questo spawner a un certo punto si disattiverà si disattiva quando abbiamo ucciso un certo quantitativo di mob che sono definiti dal livello di sfida e che cos'è allora questo livello di sfida bene siccome vogliono rendere questa struttura un bel po più difficile questo spawner spawnerà tanti più mob in proporzione si intende al livello di sfida il livello di sfida è determinato dai giocatori presenti intorno all'area di questo spawner ma in realtà è un pochino più di questo si intende i giocatori che sono stati intorno a questo spawner da quando si è attivato fino a quando non si disattiva e il livello di sfida attenzione non decresce questo vuol dire che se ci vado io con altre due persone questo spawnerà il triplo dei mob giustamente il livello di sfida sarà tre ma se quei due se ne vanno io resto da solo il livello di sfida resta tre e io devo affrontare tre mob tre volte i mob scusate da solo quindi bella sfida questa bella sfida d'altra parte i mob possono essere spawnati soltanto in blocchi dove lui ha visuale quindi ad esempio questi ma non questi qui sotto per dirvi perché in linea d'aria lui non può vedere questo blocco e tanto per darvi un'idea lo spawner si attiva quando fa questa cosa attiviamo anche quello e anche quest'altro e vediamo che sono attivi beh perché hanno le fiammette come gli spawner normali in questa stanza vediamo il bridge vediamo anche gli scheletri e tante cose che stanno succedendo io ho tanti effetti quindi non mi fanno niente adesso li ucciderò perché voglio farvi vedere guardate li uccido questo uccido quest'altro che appena ha spawnato e ne spawna un altro vedete man mano che muoiono i mob che ha spawnato uno spawner altri mob spawneranno da quello spawner ecco qua ed ecco qua quando vengono uccisi tutti i mob di un determinato spawner delle trial lo spawner dropperà qualcosa anche quello ha droppato anche quello lì giù si richiuderà e si disattiverà lo vediamo perché qui è grigio e perché sta fumando quando è così quando è in questo modo lo spawner non spawnerà mob per i prossimi 30 minuti dopodiché uscirà dal cooldown e li spawnerà di nuovo come ha fatto prima quindi ci avvicineremo si attiverà e ricomincerà la sfida ogni volta il loot che dà è casuale in questo caso due ci hanno dato questa chiave misteriosa che vedremo più avanti un altro ci ha dato due smeraldi chiaramente una volta uccisi tutti quanti poi potremmo lootare quello che vogliamo fortuna 3 o prendere altre cose notate che ci sono delle trappole queste trappole sono disseminate in giro per le stanze delle sfide ma non solo perché sono molto usate dal breeze lo vedremo più avanti e alcune sono anche molto pericolose tipo questa bella acqua non mi fa niente però pozione di veleno torniamo sullo spawner non può essere né craftato né rotto neanche con silk touch in survival e si può trovare in maniera naturale soltanto in questa struttura chiaramente non può essere spostato come gli spawner veri e se non sbaglio dovrebbe essere anche molto 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 difficile da rompere del tipo che piccone ne deride io ancora non ho visto neanche un segnetto chiaramente se vengono piazzate in creativa intanto fanno un bellissimo rumore di piazzamento e rottura comunque se piazzate in creativa non hanno alcun mob settato che si può settare con l'uovo di spawn ad esempio questo qua la mushroom vedete che poi diventa così arancione per dire è pronto a spawnare e se andiamo in survival si attiverà per dire guarda puoi spawnare o meglio inizio a spawnare e beh inizierà a spawnare delle mushroom e restiamo qua e vediamo il breeze breeze che come vedete anche il suo uovo di spawn e che è questo mob un mob violastro possiamo dire magari aspettate che metto un po di luce in questa stanza ok ora effettivamente si vede qualcosa dicevamo il breeze è questo mob violastro che io pensavo essere inizialmente della famiglia degli allei ma in realtà rivedendolo sembra più un blades anzi diciamo che è proprio un blades con l'unica differenza che ha queste soltanto tre zampette che girano e poi ha un tornadino questo tornado non è a caso perché indovinate il dannato cos'è che para le frecce le frecce tra l'altro vengono deviate verso una direzione casuale vediamo un po sì ok l'unico modo per diciamo colpirlo per ucciderlo e andare in ravvicinato ma come vedete oltre lui a spararci adesso vi dico qual è il suo attacco dicevo per andare da ravvicinato guardate lui salta quindi in realtà andare vicino a lui non è la cosa più semplice del mondo perché scappa vediamo poi che lancia queste pallette d'aria che se ci colpiscono fanno mezzo cuore di danno in normal adesso a me non fa danno perché ho resistenza però perché è controllato mezzo cuore in normal quindi penso un cuore in hard soltanto però se ci colpisce se colpisce un blocco ci respinge soltanto e poi ci farà eventualmente danno da caduta se lo prendiamo andando vicino a lui non credo che prendiamo danno no quindi non è come i blades e se avete notato ha la particolarità di interagire con alcune cose di redstone e questo lo sappiamo già dal minecraft live visto ha attivato queste cose andiamo a fargli attivare quello con la pozione guardate cosa fa mette la lingering di veleno e non è una cosa molto bella va detto dai va detto per ucciderlo servono circa 4 colpi di spada in nederite non so se sia la stessa cosa per la spada in diamante perché potrebbe avere leggermente più punti ferita o leggermente meno di quelli che gli tolgo con una spada in nederite spada in nederite senza enchant si intende ma considerate che difficilmente lo andrete ad affrontare a mid game con una spada in nederite piuttosto con una in diamante o addirittura con una in ferro quindi comunque si tratta di un avversario molto ostile molto arduo da buttare giù che altro il movimento ve l'ho detto saltella qua e là per non farsi colpire a volte anche flutto a suoi blocchi ha soltanto un attacco se colpisce un blocco ci scaraventa via se colpisce a noi ci fa mezzo cuore di danno in normal comunque un danno molto molto piccolo perché per fare danno ci sono gli scheletri qua e lui è soltanto qui per dare fastidio in realtà ma la cosa importante è che interagisce con tutte le cose di legno e non solo che sono attivabili normalmente da un player quindi pulsanti leve fence gate trapdoor e porte a meno che non siano di ferro quindi sì anche quelle in rame ritorno in survival mi faccio colpire allora è qua suona la campana e spegne le candele perché giustamente è una ventata d'aria molto forte quasi soffia sulle candele le candele si spengono adoro questa cosa come dicevo questa cosa questa ventata d'aria non ha alcun effetto su blocchi di ferro quindi trapdoor e porte in ferro ma anche su blocchi che sono tenuti alimentati da una torcia da un segnale di redstone dicevo una torcia perché si pensava una torcia ma in realtà qualsiasi cosa quindi in questo caso facciamo così facciamo anche così per vederlo se spara adesso a queste cose vediamo che non le attiva in nessun modo se tolgo la torcia invece sono in adventure dicevo se tolgo la torcia e mi faccio risparare si chiude si chiude ultima cosa che manca all'appello è lei questa chiave misteriosa che viene droppata da alcuni trial spawner quando vengono completati e che al momento non alcun utilizzo o meglio è qui perché secondo me devono fare qualcosa devono metterla per fare qualcosa per forza ma che al momento ancora chiaramente non hanno implementato c'è gente che ipotizza dato che si tratta di una chiave sostanzialmente con colori molto molto simili a quelli del deep dark che possa per l'appunto attivare il portale che ci dovrebbe portare in una zona del warden una dimensione del warden ma secondo me non sarà così o almeno credo che non sarà così poi se è così in realtà non è che mi dispiaccia ma potrebbe essere che questa chiave serva per aprire effettivamente queste casse le casse del tesoro presenti all'interno delle stanze questa qua sfida quindi immaginate entrate qui dentro queste casse sono bloccate e gli spawner sono si iniziano ad attivare quindi dovremo affrontare i mob per completare la sfida per prendere le chiavi per aprire la cassa e quindi prendere effettivamente del loot potrebbero farlo in due modi potrebbero mettere una funzione alle casse vanilla o introdurre un nuovo tipo di casse casse di pietra si vociferava che dovevano inizialmente arrivare con il deep dark poi in realtà sono state scartate dal progetto ma che vi ho detto potrebbero magari fare la loro riapparizione qua ed essere delle casse che si possono aprire soltanto con una chiave delle trial consumando di fatto questa chiave visto che prima avete visto su tre due ci hanno droppato la chiave e con questo chiudiamo la carrellata di tutto quello che c'era da sapere fino adesso sulle trial chambers vi ricordo c'è ancora molto da cambiare da aggiungere e da sapere riguardo alla 1.21 l'aggiornamento non finisce qui dovremo semplicemente aspettare i prossimi snapshot detto questo fatemi sapere cosa ne pensate di tutte queste cose aggiunte in questo snapshot di questa struttura delle trial key delle trial chambers in generale della struttura se l'avete già provata a voi in survival io sì già qualche volta e non perché ho rifatto il video tre volte vi ricordo di entrare all'interno del mio server discord il link lo trovate qui sotto in descrizione e anche dare un'occhiata al mio nuovo server minecraft fratture mc attualmente in lavorazione anche per quello il link è in descrizione detto questo se il video è piaciuto lasciate un like commentate ed iscrivetevi noi ci vediamo alla prossima puntata di minecraft snapshot e ciao 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 ciao